Partita 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 Campana con Pieraccini con il gruppo allungatissimo e l'atletta della mezzana 537 a Monico, eccoci ai punti, 551-210 ecco ancora il gruppo allungatissimo, segno di una velocità sostenuta, passiamo già ai punti, 261-46 un po' allungatissimo 261-210 punti, 137-46 sono tanti gli atleti che stanno andando ai punti, con il gruppo ora che si è spessato in due frontoni, anche tre punti, 194-46 la gara velocissima con un po' vicino, ora si è portato in testa punti 113-137 Montiero Montiero passiamo veramente i punti punti 137-545 è una gara dove sta andando a punti in tantissimi in questo momento con 5 punti in questo momento con 5 punti è primo numero 137 Montiero punti 137-545 ancora Montiero e Ciccerio ora l'atletta con la postura di Don Lusco Possi abbiamo la volata dei punti di primo 13 113-46 è una gara velocissima punti è una gara velocissima punti punti 210-113 continua Montiero ad essere in testa con 7 punti e siamo in una gara passaggio punti 113-210 Porelli ora si è portato a 7 punti con Montiero stiamo a 3 a 30 e la postura di Don Lusco è una gara velocissima e la postura di Don Lusco è una gara velocissima e la postura di Don Lusco è velocissima 210-113 565 è morto 565 abbiamo un quattro in testa ha passato le 100-9 192-210 192-210 192-210 192-210 ha preso i 2 punti 202-210 ora siamo in punti di 1-8 ed è l'atleta dell'abrianza 545 210-210 202-210 sincero i punti di 1-210 a passaggio 210-113 quindi si inserì a Morelli ora si inserì a destra su 12 punti di Morelli Passiamo ancora al passaggio dei punti, ed è 113, 545, tutti i punti per D'Armorelli e Ciccerio. Ciccerio è in testa, sento la matrona per la manzana, e stiamo al passaggio dei punti, numero 5, 192, 210, siamo arrivati nel plato, 192, 210, Borghese e Siliglia, ora Siliglia si è portato in testa, sento la matrona, punti, 192, 210, Borghese e Siliglia, è in difficoltà, Borghese è in testa, 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 Borghese è in test 565, 15 punti di fondo e stagioneci, e ne ho 32, 565, 192, e poi 137, Montiero, e quindi Grazie a tutti.